100 candeline ieri per nonna Grazia Castelli Lazzaro, in quella porto empedocle che potrebbe essere ribattezzata la città dei centenari. Intorno a lei infatti si è stretta l'intera comunità empedoclina nella chiesa madre dove parenti, amici e le consorelle della confraternita del venerdì santo hanno preso parte alla messa celebrata da don Angelo Brancato. Nonna Grazia è rimasta vedova di guerra all'età di 36 anni, madre di 5 figli e nonna di una decina di nipoti, ha assistito commossa alla celebrazione religiosa e ascoltando l'omelia di padre Brancato ha ringraziato per le sue parole. A lei come gli altri ha voluto rendere omaggio anche il primo cittadino empedoclino Calogero Firetto che ha sottolineato come gli anziani centenari rappresentino una grande risorsa per tutti noi perché la loro saggezza, il loro vissuto e la loro umiltà sono la continuità della vita. Per questo si dice orgoglioso che la sua porto empedocle vanti così tanti festeggiamenti di centenari. Questa coincidenza di quattro nonnine che compiono nel 2010 raggiungono questo bel traguardo dei cento anni certamente destapensiero, vorrà dire che la qualità della vita ci porta a un allungamento dell'età. La longevità porto empedocle del resto non è un fatto nuovo perché già in questi quattro anni di mandato tutti gli anni ho festeggiato assieme ai miei concittadini almeno due centenari. Quest'anno abbiamo raddoppiato con quattro centenari. Mi auguro che questo sia un trend che si insegua nel tempo e che si rafforzi. Oggi invece facciamo gli auguri a questa centenaria, alle cento candeline che va a soffiare e gli auguriamo di soffiarne tante altre per la gioia soprattutto dei familiari perché gli anziani all'interno di una famiglia costituiscono momento di aggregazione e di sintesi della famiglia, arricchiscono le famiglie. Porto Empedocle si prepara infatti a festeggiare ben altre due centenarie. Il 6 novembre spegnerà cento candeline la signora Maria Schillaci mentre l'11 sarà la volta di nonna Elena Gangarossa. E a raggiungere questo importante traguardo nel comune che ha dato i Natali ad Andrea Camilleri il 2 gennaio scorso è stata nonna Elisabetta Miceli. Verrebbe proprio da dire auguri alla longevità. Grazie.